Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi ultima top, giocatori dopo la patch, pretoti, come li volete contestualizzare dal titolo, credo che stavolta avrò messo pretoti, visto che comunque dalla patch ormai è passato tempo e il mio amico Danny ha utilizzato questa dicitura e devo dire che mi è piaciuta, anche per evitare equivoci e inutili commenti di sdicevoli in chat. Quindi, top esterni pre patch, come al solito è una lista di quelle che sono le mie preferenze personali, giocatori valutati in base alla mia esperienza di gioco, in base anche a opinioni oggettive, in base anche alla loro ibridabilità, non vi triggerate se non vedete i vostri pupilli in queste, tra virgolette, recensioni, ciò non toglie che magari quei giocatori che voi utilizzate siano comunque molto validi e in quel caso vi esorto a lasciarmi un commento al riguardo. Quindi, senza perdere ulteriormente tempo, andiamo subito sulla schermata di gioco, dove ci attende il primo giocatore, che è il buon Neymar Jr., che vi ha fatto tanto triggerare non vederlo tra gli attaccanti, ma io lo utilizzo da esterno e vi vado a spiegare il perché, secondo me, da esterno è tanta tanta roba. Innanzitutto 5-5, quindi vi permette sia di poter essere imprevedibile con le skill, sia di poter rifinire bene i passaggi con il 5-Pede Debole. Passaggi che sono la chiave fondamentale per sto Neymar, perché con 87 di corto e 87 di lungo avete pressoché la certezza di non sbagliarli quasi mai. Inoltre, secondo me, la statistica di lungo è anche abbastanza fake, visto che li fa davvero bene. Ovviamente è super veloce, si speed boost anche alla grande con l'L1 e con i vari bridge, ottime statistiche di dribbling, non devo stare io ovviamente qui a dirvelo. Per cui Neymar occupa la posizione numero 1 in quelle che sono le mie preferenze attuali, e sottolineo attuali come esterno, utilizzato praticamente da inizio gioco. Non ho intenzione di toglierlo, anche perché lo tengono scambiabile. Comunque, dopo Neymar invece abbiamo il buon Sadio Manet, per gli amici Sadio Main, l'altra volta lo dissi la gente a correggermi, ovviamente vi siete persi gli anni più belli YouTube Italia, se mi avete corretto. 1,75 m, alto-basso di work rate, 4-4 di mostabilità e piede debole, ovviamente questo, come vi ho detto anche nella review degli attaccanti, è una saetta, a finalizzare finalizza, peccato per il passaggio lungo, super agile, peccato anche per il 4 di piede debole e non il 5, così come la quinta stella skill, ma questo qua è veramente una saetta, un fulmine super agile, super reattivo, molto 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 rapido, quindi può fare tranquillamente l'esterno, così come la punta. Ve l'ho voluto riproporre perché io l'ho utilizzato da esterno e l'ho amato. Come vi ho detto anche negli altri video, qui trovate le versioni top, massime, possibili, dei giocatori, ciò non vuol dire che Mani Base sia scarso, anzi, ho utilizzato il Base per tanto tempo, anche perché l'ho avuto uno scambiabile, è uscito nello stesso pacchetto dove c'era Neymar. Non mi odiate, e niente, quindi anche il buon Mani per me può fare l'esterno alla grande, può fare sia l'esterno sinistro che quello destro messo anche a sette di intesa, visto che a destra c'è una carenza e una moria delle vacche, come vedremo a breve. Per quanto riguarda ulteriore esterno che io andrei a utilizzare è questo San Maxi Man, vi ripeto, questa è la versione top, ciò non toglie che si può usare ancora anche il Base, volendo e squadre esotiche o Leaf. 5 dimostabilità e 4 ripete deboli, alto e basso, 1,73m, raga, questo non so che gli hanno fatto in particolare a sto foot freeze, ma nonostante il body type d'archiato, va sicuro che si speed boost alla grande, va via con i bridge, è super agile, è super reattivo. Pecca un po' in finalizzazione e con i passaggi non è che mi faccia impazzire, però questo qua è veramente un giocatorone, anche se secondo me il prezzo è contavia un po' sballato, perché per molto meno, cioè non molto meno, ma bene o male, siamo lì, vi portate a casa Mbappé, che comunque secondo me è superiore. Mbappé che tra l'altro non figura tra questi giocatori, ma che può fare anche lui tranquillamente l'esterno, così come può farlo anche Ronaldo, ma per quei due ho deciso di non inserirli, altrimenti sarebbe diventata praticamente una riedizione della top degli attaccanti. Un'altra carta molto interessante è sto Felipe Anderson, 4-4, altro normale, 1,75m, vi dico, molto interessante perché anche in prospettiva questo potrebbe continuare ad upgradarsi, io l'utilizzo da Super Sub e mi è piaciuto veramente tanto, perché è molto rapida, a dispetto di quel 77 di finalizzazione, raga, segna e devo dire fa anche decolle abbastanza ambigui, passaggio corto 85 e 82 di lungo sono molto molto validi, agilità, equilibrio e reattività che si sposano anche ad un body type fatto ad hoc, e quindi lo rendono molto molto reattivo, buona anche la statistica per quanto riguarda la freddezza, 89, solitamente cosa che pecca un po' su ste carte, body type discreto che gli permette di andare via in velocità, di potersi speed boostare, eccetera eccetera, ovviamente essendo comunque 1,75m non è che abbia questi movimenti ampi, per esempio con un doppio passo o una finta di tiro, ma palla al piede questo qui la velocità la fa sentire tutta, così come la fa sentire sto Rashford che ho voluto rimettere anche qui perché vi ho detto che da punta è molto valido, però io l'utilizzo da esterno, quindi vi ho voluto mettere entrambi i miei due esterni, 5'4, 1,86m alto normale, anche lui un body type particolare perché è molto più ampio nei movimenti rispetto agli altri, quindi magari si speed boosta un po' meno con l'L1, però è più ampio con i vari doppi passi, finti di tiro, bridge, eccetera eccetera, quindi i modi per speed boostarsi con sto Rashford comunque ci sono, ovviamente è il meno agile di quelli che abbiamo visto fino ad ora, però fa il suo e magari è quello che finalizza un po' meglio assieme a Neymar e Manet, anche se alle volte mi ha fatto veramente cristonare la madonna, comunque devo dire la verità che questo Rashford è molto molto valido, così come è molto valido lo squalo d'Eurofeu, 1,77m alto basso 4'4 e questo rientra in quella che è la politica di carte che sono obiettivo, per cui gratuite, vi costa solamente un po' di fatica andarle a sbloccare, ma si riesce a fare tranquillamente, io l'ho sbloccato, l'utilizzo da super sub molto 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 forte perché la sua velocità si sente tutta, a finalizzare finalizza, peccato per il passaggio lungo ma il corto è molto buono e di un'agilità pazzesca, veramente un'agilità pazzesca come testimoni anche il 99-90-80, delle statistiche, la freddezza 82 è un pochino al limite ma va sicuro che sta carta è veramente entusiasmante, per quello che costa, ossia 0, per me lì a sinistra, anche in una serie A può fare tranquillamente il titolare. Carta che poi sono andato a inserire, più per una questione di link, è sto bamba, sto bamba che ho avuto modo di provarlo, e devo dire che alla fine non mi è manco dispiaciuto così tanto perché nonostante sia 1,75m a me sembra un po' più ingombrante in game, 4-4, accelerazione e velocità scatto che, devo dire la verità, non rispecchiano propriamente quei valori, potenza tiro e finalizzazione discrete, ottimo il corto meno il lungo di passaggio, valori di agilità che non sono proprio quelli che vedete poi effettivamente quando andate a utilizzare questa carta in game, però tuttavia un discreto esterno sinistro, credo di avervelo piazzato in ultima posizione, giusto perché potete sbloccarvi qualche link interessante del tipo su un Renato, su un Teo, eccetera, eccetera, però non ci andrei a fare follie sul POTM, se ovviamente lo pagate a prezzo pieno, se magari avete carte non scambiabili e riuscite a pagare poco, bene, se no magari potete andare tranquillamente sull'IF, se vi serve un bamba del genere, però mi sono sentito di inserirlo in questa classifica. Andiamo alle note dolenti, ossia a destra, non perché i giocatori siano inferiori, ma perché ce ne sono proprio tre in croce, secondo me. È il primo, sto ciuchilo zano, che è veramente incredibile, 1,75 m alto o basso, 4 di skill e 3 di piede debole, peccato, però è un fulmine di guerra, la velocità la sentite tutta, a finalizzare è anche discreto, passaggio corto ottimo, il lungo un po' meno, agilità, questo si gira e si gira e rigira su se stesso veramente come un messicano indemoniato. Io l'ho utilizzato questo qui da super sub, molto molto buono ve lo devo dire, però da titolare in una serie A a destra per me non c'è di meglio, quindi anche lui utilizzabilissimo, differenza tra lui e l'85 credo poca, quindi magari se volete risparmiare i crediti potete prendere anche l'85, fatto sta che il buon Irving quest'anno è ritornato a prendersi la scena di FIFA. Spoilerone, perché per gli ultimi due giocatori parliamo di due giocatori di SBC, quindi se non li avete sbloccati purtroppo non ne avete più la possibilità di prenderli, però Alessandrini e Lucas Moura sono gli ultimi due esterni che mi sento di inserire a destra, 1,73 m Alessandrini alto normale 4-4, super veloce con un body type fatto bene che gli permette di speed boostarsi, a finalizzare magari con quello 81 ne risente un po', passaggio corto buono e lungo discreto, agilissimo, si gira e si rigira su se stesso, con lo speed boost con l1 va via alla grande, questa gran carta per quello che costava, così come era una gran carta a sto Lucas, soprattutto per una Premier League 4-4 pure lui, ovviamente super veloce, anche lui con problemi di finalizzazione, passaggi un po' me rispetto ad Alessandrini e rispetto agli altri che abbiamo visto, passaggi che sono importanti per un esterno che deve servire magari all'interno del campo centrocampisti, oppure una punta in area di rigore, quindi una statistica a non sottovalutare, ovviamente super agile, buona anche la statistica di freddezza, però vi ripeto, se non l'avete sbloccato purtroppo non potete prenderlo più, magari vi starete chiedendo perché a destra manca per esempio Salah, perché io giocatori con 3 di piede debole li odio, perché siete palesemente prevedibili e quindi vi chiudono in tutti i modi possibili e immaginabili, oltre che non è questa reattività, secondo me Salah, per quanto riguarda giocatori a destra ci sono questi, il non plus ultra, però non ve l'ho messo perché vi ho messo giocatori normali, diciamo, base, sarebbe Garrincia lì a destra, il miglior esterno destro che vi potete permettere, ormai costa anche un milioncino, vanno bene tutte le versioni, sia il baby che il mido, se volete proprio strafare il prime, ma lui sarebbe proprio il top, e quindi raga, niente, per questo video fondamentalmente è tutto, vi ricordo di lasciare un like e un commento, facendomi pensare, facendomi sapere cosa ne pensate, vi ricordo di iscrivervi al canale che stiamo andando una bomba, tutte le info per le live giornaline le trovate invece in descrizione, e a me non resta altro che salutarvi, ciao ragazzi!